Dopo un mese torna in campo la Lega Pro, torna in campo anche il Teramo, lo farà nella prima delle tre trasferte consecutive. Domani la formazione di Federico Guidi sarà impegnata al Benelli di Pesaro contro la Vista. Vestaio ostico, ma risettare il 2021, soprattutto l'ultima parte, sembra la parola d'ordine del diavolo. Mi aspetto e mi auguro un campionato diverso rispetto alle tante problemate che abbiamo vissuto nel finale del girone d'andata con la speranza che il nuovo anno ci abbia un po' resettato e ci ritorna a far fare quello che fino a novembre avevamo fatto. Quindi mi auguro che la squadra riesca a trovare grande continuità perché è quella che serve per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Finestra di mercato ancora aperta, nelle ultime ore sono ufficiali gli arrivi di D'Andrea Davanti e Papa Serio che sarà il vice a Rigoni. Anche se Guidi dice in questo momento a centro campo, c'è qualcuno di troppo? È chiaro che è un mercato complicato per le vicende che conoscete e la società sta cercando di porre rimedio a quelle lacune che si sono evidenziate nel girone d'andata cercando anche di alzare l'esperienza del gruppo che nel girone d'andata per scelta era estremamente giovane. È chiaro che in questo momento siamo tantissimi centrocampisti perché avere dieci centrocampisti è chiaro che anche a livello di gestione non è assolutamente facile e penso che siamo in altri reparti, siamo scoperti ma che la società sta lavorando per colmare oggi è ufficiale l'arrivo di D'Andrea però sta come sapete uscendo Birligea, è uscito Chiarema Teng, è uscito Diddio, è chiaro che davanti siamo corti. Vista squadra ostica, ne ha parlato il tecnico in conferenza, ci sono tante peculiarità per la formazione pesarese da tenere sott'occhio. Noi affrontiamo le partite per cercare di raggiungere il risultato positivo e ormai mancano poche partite e quindi noi dobbiamo affrontare ora la Vispesoro, poi l'Imolese, poi il Siena con la consapevolezza di andare a battagliare cercando di fare un risultato positivo perché la nostra classifica ce lo impone. Non possiamo più regalare, non siamo più in costruzione, ora dobbiamo raccogliere quanto abbiamo seminato e quindi giocare fuori in casa ci deve cambiare poco. Noi dobbiamo cercare di fare risultato e provare a farlo in qualsiasi campo. Indicazioni di formazione, a centrocampo ci saranno Arrigoni e De Grazia, Perucchini tre pali, Aziosmanovic a destra con uno dei nuovi arrivati, Mordini a sinistra, Rosso e Malotti dunque confermato, il 4-3 davanti sugli esterni, punta centrale, dubbio se c'è o non c'è Bernardotto. E poi sono in quattro Kodromaz, Bellucci, Soprano e Pinto per due maglie per formare la linea 4 di difesa.